Il mare abruzzese gode di ottima salute, promosso dopo le analisi dell'Arta, ha fatto eccezione per quattro punti critici. In vista della prossima stagione balneare, i parametri registrati sono conformi. I punti critici sono a ridosso delle foci dei fiumi. Su 113 punti di monitoraggio controllati, le non conformità sono emersi a Pescara nella zona antistante a Via Leopardi, a Francavilla in corrispondenza di Via Toste in direzione sud rispetto al fiuma Lento e a Rocca San Giovanni in un punto in prossimità della Statale 16. Tre invece tratti vietati alla balneazione per tutta la stagione, a Ortona a 350 metri in direzione sud rispetto alla foce del Foro e 200 metri in direzione sud dalla foce del fiume Arielli. Il terzo punto a San Vito Chietino a 100 metri in direzione nord rispetto alla foce del fiume Feltrino. Ci sono altri tre punti vietati ma solo in via temporanea perché il monitoraggio si fa ogni 15 giorni e sono due, Pescara e Rocca San Giovanni, punti Giannoti e Abbasso sul lungomare Cordella in prossimità del monumento. I nostri laboratori sono sempre attentissimi all'inizio del periodo della balneazione e quindi del periodo nel corso del quale obbligatoriamente effettuiamo periodicamente analisi delle acque di balneazione. Pescara, Teramo, i laboratori preposti attraverso i loro dirigenti chimici, biologi, sono e danno il massimo dell'impegno in questo periodo. Da maggio a settembre eccezione fatta per i punti con divieto permanente saranno passate al setaccio per capire se taliari potranno tornare fruibili. A parte questo lo stato di salute è buono e lo è anche per le acque dei laghi abruzzesi come il lago di Scano e di Barrea. La qualità insomma a livello generale cresce, il trend è in miglioramento pure rispetto allo scorso anno. Bisogna operare un distinguo fondamentale. Ci sono luoghi fisici del nostro mare e quindi quelli in prossimità di foci, porti e altri luoghi con analoghe caratteristiche che per loro natura non sono balneabili. Non sono balneabili perché ad esempio in prossimità di acque che magari provengono da luoghi dove vi è una scarsa efficienza dei depuratori. Quando invece la non balneabilità riguarda un tratto di costa normalmente deputato a ciò, pensate una bella spiaggia, un lungo arenile, ecco che si impone la cosiddetta suppletiva che noi facciamo in brevissimo tempo per capire se il fenomeno era transitorio o qualcosa di diverso.